Buon viaggio, ancora bentrovanti da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Traffico rallentato in A1, traffico intenso tra Firenze Sud e incisa Reggello, la direzione quella per Roma. Mentre in direzione Firenze, tra il B1 Variante di Valico e Calenzano, c'è un veicolo in avaria. Ci spostiamo sulla 11 e al momento il traffico è intenso tra Pistoia e Monte Catiniterme verso Pisa. Sulla Firenze e Pisa Livorno, personale su strada a San Miniato in entrambe le direzioni. Per i treni, dopo l'inconveniente sulla linea tra Torre del Lago e Pisa, il 18377 Firenze-La Spezia, effetto affermata straordinaria a Torre del Lago. In chiusura a ricordo, sulla 11, i lavori di ammodernamento, sarà chiusa la stazione di Lucca Est dalle 22 di lunedì alle 6 di martedì, chiusa in entrata verso Pisa in uscita per chi proviene da Firenze, in alternativa la stazione di Capandoli. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Grazie. Grazie.